Buonasera, benvenuti a Tef Channel News. Apriamo dal caso quadrilatero della strada Perugia-Ancona. Oggi la prima commissione dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, presieduta da Andrea Smacchi, ha approvato una proposta di risoluzione perché partono i pagamenti dei crediti e la ripartenza soprattutto dei lavori che possono viaggiare insieme, quindi con quelle che sono le aspettanze dei creditori. Sentiamo Paolo Pienigiani. Grazie. Il testo finale è arrivato dopo un'ampia discussione che ha visto impegnati i consiglieri Claudio Ricci, Roberto Morroni, Mare Grazie Carbonari, Gianfranco Chiacchieroni, Marco Vinicio Guasticchi e Giacomo Leonelli. L'atto impegna la Giunta a prevedere iniziative concrete, in sinergia con la Regione Marche, per garantire la ripresa dei lavori nei cantieri della Perugia-Ancona e il completamento entro la fine dell'anno, auspicando in via prioritaria il coinvolgimento delle aziende impegnate nei cantieri stessi. Poi ad attivarsi al più presto per venire incontro alle esigenze di riscossione dei crediti delle imprese locali nei confronti della Staldi per le forniture e i lavori già effettuati ed evitare che vengano effettuate ulteriori forzature verso le imprese a cui non possono essere richiesti altri sacrifici. Infine, è richiesta con forza di un tavolo a cui partecipano il Ministero dell'Infrastruttura e dei Trasporti e i soggetti direttamente e indirettamente interessati per definire al più presto il quadro legislativo e finanziario necessario a superare la situazione di incertezza. Anche dai sindacati confederali Fillea Cigelle, Filca Cisle e Fenial Uil è venuta la richiesta di un tavolo di confronto coordinato da Regione Umbria a cui partecipi la società Quadrilatero Umbria Marche con l'obiettivo di sostenere la ripresa e il completamento dei lavori sulla Perugia Ancona. Le imprese Umbria vanno salvocardate perché la presentazione del concordato da parte di Astaldi comporterebbe il congelamento delle aspettanze arretrate, una situazione che provocherebbe, dopo due fallimenti legati alla stessa Perugia Ancona, il rischio di una chiusura definitiva per le imprese Umbria. Cromeca, la Guardia di Finanza di Todi ha sottoposto a sequestro circa 40 kg di prodotti esplodenti acquistati anche attraverso canali alternativi a quelli legali e detenuti illecitamente da un cittadino residente a Marciano. Il materiale è stato rinvenuto all'interno di un appartamento, l'uomo è stato denunciato. Parliamo adesso dell'ottantenne Emanuele Cecconi della frazione perugina di Olmo, scomparso da due giorni. Ecco la foto proposta anche nell'ultima puntata, RAI, di chi l'ha visto. Venerdì 1 marzo, la signora di Perugia di 80 anni Emanuele Cecconi è uscito con la sua auto e non è stato più rivisto, una persona ha anche riferito ai familiari di aver incontrato l'uomo proprio il giorno della scomparsa all'interno della macchina con le quattro frecce accese, un episodio che sarebbe accaduto nella località di Strozza Capponi, sempre alle porte di Perugia. Per il momento non abbiamo altri aggiornamenti. Qui le immagini che arrivano alla Norcia perché è stato presentato questa mattina il restauro del Cristo crocifisso di Benedetto Damaiano proveniente dalla chiesa della Madonna Bianca. L'intervento è stato eseguito dall'Opificio delle Pietre Dure di Firenze grazie al progetto di recupero delle opere d'arte compromesse dai terremoti del 2016 realizzato in accordo con la sovrimendenza archeologica Belle Arti e Paisaggio dell'Umbria. alla presentazione del restauro sono intervenuti l'arcivescovo di Spoleto Norcia Renato Boccardo, la sovrimendenza Marica Mercalli, il sindaco di Norcia Nicola Alemanno, il direttore dell'Opificio delle Pietre Dure Marco Ciatti e il restauratore Peter Stiberg. Investimento di 380 mila euro da parte dell'Auri per realizzare nel territorio regionale erogatori automatici di acqua pubblica. Ci sono anche dei progetti innovativi per migliorare la raccolta differenziale di tutto questo per limitare i rifiuti. Sentiamo Paola Costantini. Tra le attività portate avanti in questo inizio 2019 dall'autorità Umbra per rifiuti e idrico vi sono due bandi volti. Uno a realizzare nel territorio regionale le cosiddette fontanelle, erogatori automatici di acqua pubblica refrigerata, naturale e gassata e l'altro a mettere in campo interventi e progetti innovativi per migliorare la raccolta differenziata. L'Auri ha messo a disposizione dei comuni Umbri 180 mila euro per installare le ormai famose case dell'acqua che stanno avendo una risposta molto positiva da parte della popolazione. Grazie a questi erogatori è possibile ridurre drasticamente l'utilizzo di contenitori in plastica con enorme vantaggio in termini ambientali. L'altra iniziativa rivolta sempre ai comuni ma questa volta sul fronte della raccolta differenziata interviene con 200 mila euro destinati per esempio all'installazione di eco isole o di chip per il tracciamento dei rifiuti da raccolta differenziata porta a porta. Lo scorso 25 febbraio il Consiglio direttivo dell'Auri ha preso atto delle domande pervenute da parte dei comuni 21 per le case dell'acqua e 20 per sistemi di raccolta differenziata decidendo di soddisfare tutte le richieste. Consiglio regionale siamo dunque al momento dell'approvazione del nuovo piano telematico dell'Umbria sentiamo ancora i particolari con Paola Guasantini. Con 13 voti favorevoli e 6 astenuti l'Assemblea legislativa dell'Umbria ha dato il via libera al piano telematico regionale 2017-2020 che prevede risorse pari a 23,4 milioni di euro. Eros Brega, relatore di maggioranza, ha ricordato che ad oggi sono stati realizzati 700 chilometri di rete. L'obiettivo aggiunto è raggiungere con la fibra ottica l'80% della popolazione, la parte rimanente tramite le onde elettromagnetiche. Si punta anche alla realizzazione di un intranet della pubblica amministrazione Umbra, viene riconosciuto il diritto di tutti i cittadini di accedere ad internet. Per il relatore di minoranza Andrea Liberati non è superato il digital divide a causa di diversi problemi che non sono collegabili soltanto a livello di istruzione, questioni economiche o la difficoltà di raggiungere alcune località o case sparse o intere comunità, ma questioni infrastrutturali. Adesso andiamo al creo dell'azienda ospedaliera di Perugia dove sono stati presentati due progetti per la medicina digitale. Intervenuta anche la Presidente della Regione, Catiuscia Marini, c'era per noi Paolo Pianigiani. C'è molta Europa nelle iniziative della Regione Umbria finalizzate allo sviluppo della medicina digitale che sono state presentate alla Sala Rita Levi Montalcini dell'azienda ospedaliera di Perugia. Si tratta di progetti finanziati dal programma operativo della Comunità Europea e che puntano allo sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative per la digitalizzazione dei servizi collegati al ciclo di vita diagnostico-terapeutico, allo sviluppo della telemedicina e della condivisione di esami, procedure mediche e al monitoraggio degli assistiti cronici. Nel corso dell'evento sono state illustrate le potenzialità e i benefici derivanti dalla costituzione delle biobanche per la ricerca sul territorio regionale con il coinvolgimento delle aziende ospedaliere, delle ASL, delle università, delle imprese e delle associazioni di pazienti e di donatori. Sì, ormai è un dato acquisito il fascicolo sanitario elettronico, l'informatizzazione dei servizi, la medicina digitale, sono tutti strumenti che servono a migliorare ed avvicinare la sanità ai cittadini per rendere più efficiente ed efficace l'informazione e l'informatizzazione di tutti i percorsi sanitari. Oggi qui si presentano dei progetti tipo la biobanca che è stata anche finanziata con un fondo dalla regione dell'Umbria e anche una parte integrante del nuovo piano sanitario per cui queste big data che sostanzialmente sono i nuovi dati che servono in pratica per la medicina personalizzata. Si va avanti nell'innovazione, nella qualità dell'assistenza per trovare terapie sempre più adatte, quindi personalizzate sui cittadini. Ma non solo sull'eccellenza e sulle cure, ma anche abbiamo fatto nelle nuove AFT con i medici di medicina generale e la condivisione dei dati e delle cartelle cliniche di medici di famiglia garantiscono una maggiore assistenza a tutti i cittadini delle aggregazioni funzionali territoriali. Adesso andiamo a Terni, rimaniamo in tema sanità perché c'è stata una conferenza stampa proprio all'azienda ospedaliera Santa Maria questa mattina su un importante rapporto di collaborazione con il Meyer di Firenze. Parliamo del Dipartimento Materno Infantile. Vediamo. Si rafforza la collaborazione tra il Santa Maria di Terni e l'ospedale pediatrico Meyer di Firenze che da quest'anno estende la Convenzione già attiva per patologie neurologiche infantili complesse anche all'attività di chirurgia pediatrica. Il tutto alla vigilia della prova concursuale per la direzione della struttura complessa di pediatria che si svolgerà l'8 marzo e della nomina del dottor Leonardo Borrello a nuovo direttore di ostetricia e ginecologia che dal 13 marzo nel rispetto dei tempi tecnici potrà essere formalmente deliberata. Sono queste le principali novità del Dipartimento Materno Infantile che il direttore generale dell'azienda ospedaliera di Terni, Maurizio Dalmaso ha annunciato nella conferenza stampa di presentazione del massimo esperto europeo di chirurgia pediatrica addominale che seguirà personalmente l'attività chirurgica pediatrica all'ospedale di Terni. Si tratta del professor Antonino Morabito nato e cresciuto a Terni che da alcuni anni dirige la struttura complessa di chirurgia pediatrica all'ospedale pediatrico Meyer dopo oltre 21 anni di esperienza al Royal Manchester Children Hospital dove è stato direttore del Dipartimento Pediatrico di Chirurgia Rigenerativa Intestinale e Riabilitazione. Il dottor Leonardo Borrello intanto è già pronto per confermare i tre bollini rosa e ha già delineato un progetto di sviluppo della struttura di ostreitrice e ginecologia che si appresta ad andare a dirigere tra questi rafforzare l'integrazione con la ASL nell'ambito del percorso di nascita con incontri e dei hospital in reparto per le gestanti oltre alla partoanalgesia. Saranno inoltre sviluppate altre tecniche non farmacologiche per il contenimento del dolore ed è in arrivo anche una vasca per il travaglio e il parto in acqua. Rimandiamo a Terni perché arrivano 150.000 euro dalla CONI per il nuovo progetto del restyling del Palazzo Sport Ternano. Il Palazzetto dello Sport di Terni avrà una nuova facciata e sarà libero da barriere architettoniche. Con 18 sì e 10 astensioni il Consiglio Comunale di Terni ha approvato la variazione di bilancio riguardante la ridefinizione dell'ingresso al pubblico e lavori di migliorie presso l'impianto sportivo di via di Vittorio. La variazione di bilancio ammonta 200.000 euro. Il progetto, finanziato per 150.000 euro dal CONI nazionale, ha valere sui fondi del Bando Sport e Periferie 2016 e per i restanti 50.000 euro dal Comune attraverso gli oneri di urbanizzazione. La variazione si è resa necessaria in quanto la spesa prevista di 200.000 euro finanziata in parte dal CONI e in parte dal Comune, essendo prevista con un importo insufficiente nell'ultimo bilancio, può essere individuata tra le spese da finanziare nei casi di gestione di bilancio durante la procedura di risanamento. L'atto è stato illustrato dall'assessore ai lavori pubblici Enrico Melasecche. Andiamo a dotare quell'impianto dell'abbattimento delle barriere architettoniche, andiamo a rivedere la facciata, non è un intervento risolutivo a specificato, ma comunque è significativo. Andiamo a dare un'immagine diversa alla struttura e soprattutto i portatori di handicap potranno accedere alle tribune e non fermarsi ai margini del campo di gara. Ci trasferiamo per un attimo al Piegaro, dove il capogruppo della lista civica, Augusto Peltristo, denuncia lo stato di abbandono del fiume Nestore. Peltristo chiede un pronto intervento da parte delle autorità regionali per la pulizia degli argini e per quindi provvedere al taglio e rimozione di alberi e arbusti nei pressi del fiume per evitare così situazioni di emergenza e salvaguardare l'incolumità dei cittadini. Parliamo di commercio, del commercio online, sempre più proiettate sul web le scelte dei consumatori. Negli ultimi dieci anni sono triplicati gli acquisti proprio su internet. Paola Costantini. L'e-commerce in provincia di Perugia in dieci anni, dal 2009 al 2018, è quasi triplicato. Lo afferma Giorgio Mencaroni, presidente della Camera di Commercio di Perugia. Al 31 dicembre 2009 erano soltanto 73, dopo un decennio sono diventate 206. La crescita in termini assoluti è stata di 133 unità con un incremento del più 18,2% ogni anno. Buona la progressione, ma siamo sotto di quasi 6 punti rispetto a una media nazionale che nell'ultimo decennio ha realizzato un incremento del 23,9% all'anno. La provincia di Perugia si colloca al 51esimo posto tra le 106 province italiane per numero di ordini e-commerce ogni 100 abitanti, 33,9 nel 2018. E se in termini assoluti le regioni a più alta crescita sono state Lombardia, Campania e Lazio, in termini relativi quelle che sono cresciute al ritmo più sostenuto sono state Campania, Abruzzo e Calabria tutte oltre la media del 35% all'anno. L'Umbria negli ultimi dieci anni si è fermata ad una crescita delle imprese che fanno e-commerce che non è andata oltre il 18,7%. E adesso è arrivato il momento di Time Out che insiste proprio su questa novità che riguarda le scelte dei consumatori in tutta la provincia di Perugia, come sentivate nell'ultimo servizio. Parliamo anche di università con le riflessioni di Marco Brunacci. Due post-it e pronti con due riflessioni. Allora la prima esplode l'e-commerce a Perugia, c'è una ricerca, dati molto rilevanti, un salto in alto della quantità di gente che si rivolge al web, a internet mette la sua carta di credito e acquista roba, saltando ovviamente i negozi tradizionali. Ora noi anziani dobbiamo metterci al passo con i tempi, inutile pensare che ogni innovazione sia una catastrofe biblica. La cosa importante è prendere atto della realtà così com'è. Attenzione, i più grandi e-commerce del mondo stanno rivalutando la possibilità di vendere attraverso negozi, come si dice offline, insomma i negozi quasi tradizionali. La cosa molto importante da parte di tutti è non perdere il contatto con la realtà, il commercio tradizionale come quello sull'online. Amazon sta acquistando in questo momento e sta investendo pesantemente, Amazon numero uno al mondo, Mr. Jeff Bezos con tutte le sue storie anche private, 130 miliardi di dollari di valutazione personale, insomma di patrimonio personale, sta tornando ai supermercati tradizionali. Qual è l'insegnamento? Bisogna tutti avere in mente che la tecnologia avanza e che non bisogna mai perdere il contatto con la realtà sapendo come si modifica e avendo sempre in mente il contatto col consumatore finale. Questo va ricordato per il commercio come per tutti gli altri comparti. Benissimo. Università è il secondo argomento sul quale ci soffermiamo, ma solo qualche secondo questa sera. Succedono delle cose che non possono non far riflettere. 25 promozioni arrivate adesso, l'8 maggio si vota, era proprio necessario farle in questo momento, partiranno tutti a ottobre e novembre, qualcuno vuole influenzare le elezioni, brutto, sono cose che non vanno fatte. L'università è una realtà importantissima per Perugia, per l'economia di Perugia, per tutta Perugia, perché promuove le eccellenze, perché porta studenti, perché muove l'economia a tutti i livelli. Beh, bisogna fare una campagna elettorale serena, ben fatta, pulita, positiva e niente, e niente, intromissioni di nessuno. Grazie per l'attenzione. Forti infissi, eccellenza italiana nei serramenti, produce finestre in PVC ed alluminio. Da impianti all'avanguardia e processi di ultima generazione, nasce un'eccellenza di serramenti che entra nelle case di tutta Italia. Finestre di altissima qualità, create nel rispetto degli standard italiani per garantire i massimi livelli di comfort abitativo, design e risparmio energetico. Oggi con il 50% di incentivo fiscale. Vieni a vedere i prodotti forti infissi nello showroom di Perugia, presso Vantaggio Casa, in via Sandro Penna 39, e in quello di Foligno, presso Abita, in via Cesare Battisti 85. Rosini Arredamenti, soluzioni di arredo moderne e funzionali per soddisfare esigenze in continua evoluzione. Un moderno showroom e una falegnameria storica per donare ai tuoi spazi stile e personalità. Affidabilità, gusto e qualità. Rosini Arredamenti, la tua casa come nessuna. DCD Studi Estetici è leader in Italia per il dimagrimento. Vieni a provare le nostre soluzioni innovative. Con ElectroSculpture rimodelliamo, tonifichiamo, eliminiamo centimetri, cellulite e buccia d'arancia. Con crioterapia eliminiamo il grasso localizzato con risultati immediati. Alla DCD sarai sempre sotto controllo medico e con le diete normocaloriche e personalizzate associate ai nostri trattamenti otterrai grandi risultati. DCD Studi Estetici Perugia, via Gerardo Dottori 93, telefono 075 527 1330. dcddimagrimento.com Avevo paura di donare il sangue, ma poi con questo gesto ho aiutato Elena, Filippo, Samir, ma anche molte altre persone. Apriamo dal volley il nostro TG Sport. Prosegue la preparazione della Sir Perugia in vista dell'anticipo di campionato con Padova sabato sera. Dopo il successo di Ravenna e il bilancio entusiasmante abbiamo ascoltato il giocatore della Sir Perugia Potrassan in ospite di Sottolite con Marco Cruciani. Sentiamo. Si lavora intensamente al Palabarton di Perugia in vista delle ultime tre partite della regular season, al termine della quale sarà delineata la griglia play-off. Sul calmino della Sir restano ancora due partite casalinghe e un'ostica trasferta a Milano in casa della Revivre che si è guadagnata la quarta posizione in classifica in coabitazione con Modena. Ma se la filosofia è quella di pensare solo ed esclusivamente a una partita alla volta, occhi puntati sul prossimo avversario, la Chioene Padova di coach Baldovin, reduce da una rotonda vittoria per 3-0 su Verona che ha garantito l'accesso matematico ai play-off e desiderosa dunque di dare continuità al risultato positivo con il quale la squadra si è prontamente riscattata dal KO di domenica precedente per mano di Trento. Dall'altra parte Perugia ha un motivo in più per dare il massimo. Padova è infatti una delle poche squadre che è riuscita a battere i Block Devils in questa stagione dei record. Mancano solo tre partite, noi stiamo preparando già la partita contro Padova che è sabato prossimo. Mi ricordo che abbiamo perso una di poche partite che abbiamo perso questo anno era contro Padova, quindi sicuramente abbiamo un motivo in più di dimostrare che siamo una squadra di alto livello e chi vogliamo vincere altri tre punti portati. Andiamo avanti, parliamo di calcio di Serie B, si avvicina il match di venerdì del Perugia contro il Verona, oggi terzo allenamento settimanale, qualche problema per Rosi, potrebbe tornare a giocare dunque sull'auto di destra Mazzocchi con il rientro di Falasco, tornato a disposizione di Nesta come Kingsley. Allora vediamo le opzioni per l'allenatore del Perugia in vista del match con il Giallo Blu di Grosso. Qualche dubbio di formazione per Alessandro Nesta in vista della sfida contro il Verona per l'anticipo di venerdì sera del campionato di Serie B. In dubbio Rosi che è ancora frenato da un problema alla caviglia accusato nel match contro la Salernitana. Qualche fastidio muscolare anche per il capitano Raffaele Bianco. Per il resto l'allenatore del Perugia dovrà fare a meno certamente di Cremonesi e degli Amic. Sulla via del recupero invece Falasco, pienamente a disposizione Kingsley che potrebbe mettere in difficoltà Nesta nella scelta della mezzala ad aggiungere a Carraro e a Dragomir, quest'ultimo sempre costante nel rendimento nelle ultime gare di campionato. Dunque balottaggio falseranno Kingsley con qualche vantaggio per l'ex centrocampista della Venezia tenendo conto che comunque Kingsley arriva dopo un periodo di inattività. Il resto le scelte potrebbero essere più facili per la fase offensiva. È ovvio che giocherà Verre alle spalle delle due punte. Potrebbe ricomporsi la coppia d'attacco. Milchiorri-Vido alla luce della squalifica di Zadik fermato per un turno dal giudice sportivo per la doppia ammunizione rimediata nella gara di domenica. Qualche chance anche per Anne che però potrebbe entrare in corso di gara proprio come è successo nella sfida contro i campani. Possibile allora anche rientro al primo minuto di Vido per la coppia d'attacco Vido-Milchiorri con Anne in panchina. Questa potrebbe essere una delle soluzioni a disposizione di Nesta. Capiremo meglio venerdì nel corso della diretta di A tutta Bia a partire dalle 20.30 sul canale 12 di Tuff Channel, digitale dell'Umbria, ma anche sulle nostre piattaforme stradarietari TVSAT e Sky Canale 8-3-1 per vivere insieme il match con il Verona con tutto il post partita in rigorosa diretta. Chiudiamo con la Serie C e con il match di questa sera della Ternana con la San Maedettese recupero di campionato. Sono 23 i convocati scelti da Fabio Gallo per la sfida che questa sera vedrà la Ternana ricevere a Liberati la San Maedettese. Si torna a giocare con i Rosso e Blu marchigiani affrontati poco più di una settimana fa. L'imperativo è ritrovare la vittoria che ormai manca da più di due mesi. Indisponibili Paghera, squalificato e Furlan e Palumbo infortunati. I portieri a disposizione sono Iannarilli, Gagno e Vitali. In difesa Gallo potrà puntare su Bergamelli, De Chite, Fazio, Ristov, Russo, Mazzarani e Giraudo. Defendi Pobega, Altobelli, Callegari, Rivas, Castiglia, Filipponi e Cori sono i centrocampisti. In attacco la scelta si concentrerà su Bifurco, vantaggiato Marilungo, Frediani e Boateng. Abbiamo analizzato la partita, però sotto l'aspetto del lavoro è stato un allenamento per chi non ha giocato, gli altri hanno fatto solo recupero e nell'allenamento di chi non ha giocato si è fermato a Palumbo. Vittori, gli ho detto quello che penso, come ho sempre fatto dal primo giorno. Poi alla domanda su un calcio d'angolo che erano schierati sulla linea di porta, allora lì in quel caso ho detto ci sono fogli, sapete benissimo quello che bisogna fare, non posso accettare il fatto di non eseguire quello provato. Che poi si sia una buona riuscita dello schema sul calcio d'angolo è un altro discorso. Sul fatto che la preparazione e i movimenti devono essere fatti nel modo corretto come sono stati preparati è un altro. Perché sennò ogni frase i miei giocatori le hanno sentite, le sentiranno oggi, le sentiranno domani, tutti i giorni, quando se le meritano tutti i giorni, sempre con il massimo rispetto e con la massima attenzione a tutto. Sicuramente gli ho detto se avete timore che io possa togliere il mio entusiasmo e quindi o se qualcuno spera che io perda il mio entusiasmo, quindi sempre nel significato delle parole, vi sbagliate perché non mollo di un millimetro e vado diritto e avanti con la consapevolezza che si deve fare bene. Abbiamo non tanto tempo ma abbiamo tempo. Si chiude qui la pagina sportiva 8F Channel, pagina sportiva che torna questa sera alle 20.30 sul canale 212 per l'Umbria e sulla piattaforma Sky canale 831 con Grifo Stadium. Gli ultimi aggiornamenti e soprattutto le emozioni dell'ultimo match vinto dal Perugia sulla Salernitana, quindi sul canale 12 torneremo sulla Champions League con QS e WS a partire dalle 20.30. Grazie, buona serata. Grazie.